Sfida alla vetta Nel girone di andata ha fatto l'amplein 10 vittorie in 10 partite Nessuna sconfitta per loro Oggi prima partita del girone di ritorno per Pesaro Un avversario davvero improbo Alla telecronaca un saluto a tutti da Matteo Giotalevi E con me al commento tecnico oggi Domenico Astolini Buongiorno a tutti Domenico, oggi sei al mio fianco per una delle partite sicuramente più difficili del campionato Ma non credo, difficile sarà per la Lazio Noi siamo il Pesaro, giochiamo in casa Venire a Pesaro è difficile per tutti Dovranno dimostrare di essere più bravi E non è facile Sanno bene i Laziali che cosa vuol dire comunque affrontare una squadra che gioca in casa Infatti sicuramente sono scesi con il massimo della concentrazione senza sottovalutare i giallorossi Pesaro oggi con la classica maglia del cinquantesimo Mentre appunto Lazio con i suoi classici colori sociali bianco-azzurro Con la divisa blu, quindi la divisa più scura Subito la Lazio al lancio in tush con Liwa Liwa che fra l'altro l'abbiamo già incontrato nelle passate stagioni perché era al Catania Vediamo subito Rack per la Lazio che prova ad attaccare vicino la Rack Pesaro che fa buona guardia Tanto peso per gli uomini di mischia Laziali Pesaro deve essere brava nell'uno contro uno A mettere a terra subito i diretti avversari per non concedergli ulteriore spazio C'è subito una mani in mischia per Pesaro in Rack che ruba palla Palla non rilasciata dal giocatore Laziale e quindi Pesaro che guadagna una punizione Buonissima l'attitudine in questo avvio di partita Una bellissima difesa, la Lazio ha fatto cinque fasi consecutive Non ha conquistato la linea del vantaggio I ragazzi di Pesaro sono subito riposizionati Bellissima difesa, bellissimo recupero Pesaro che oggi ha iniziato con in prima linea dal posto Stefanini e Franco Ora Giobert ha trovato una buona touche proprio sulla linea di metacampo Stefanini al lancio Vediamo Pesaro come organizzerà la linea di touche Una mischia con Caroli e Venturini in seconda linea E in terza linea la novità di Antonelli in posizione di flanker Insieme al capitano Villarosa mentre Mei è a numero 8 Palla conquistata da Pesaro Vede bene il bocca rossa, si butta dentro E adesso Rack per Pesaro devono farla uscire velocemente Subito con Dal Posto che va a terra Palla fuori per Antonelli che prova a guadagnare qualche altro metro Si gioca vicino alla Rack adesso per Giobert Giobert a provare a mettere in difficoltà la linea arretrata della Lazio E il numero 23 della Lazio Non poche difficoltà a calciare fuori Si riprende quindi con una touche in favore di Pesaro Tanta l'aggressività messa da Pesaro E Pesaro che sta iniziato giocando a testa alta Sfidando la Lazio anche in attacco Adesso è Santino ad andare dritto per dritto Metà terra il primo avversario Bocca rossa apre all'esterno Adesso è Stura a trovare spazio Ma la Resciarte poi non tiene il passaggio Forse non il passaggio migliore da parte di Stura Un po' alto però in avanzamento Magari non era neanche così facile servire il compagno Quindi si riprenderà con una mischia in favore della Lazio O con la touche Pensavo avesse dato l'inavanti All'Areciarte non è così Quindi si riprende con la touche in favore della Lazio Presa sicura della Lazio che prova a impostare la molla Pesaro difende abbastanza bene Ecco adesso ha preso l'abbrivio La molla razziale C'è un fallo di fuorigioco di Pesaro Adesso è la Lazio che prova a distendersi con i suoi tre quarti C'è ancora il vantaggio per i Romani Vediamo se Pesaro riesce a frenare il gioco lastiale Adesso la Lazio calcia lontano E si torna sul punto del fallo precedente Ottima difesa anche in questo caso del Pesaro La Lazio si sta mettendo in difficoltà con la touche Penso che sia l'arma di tutta la partita Proveranno continuamente a fare delle grand rolling ball Anche se noi stiamo difendendo abbastanza bene Ottima la linea difensiva con un giovane Porcellini Che si sta mettendo in evidenza Oggi spazio appunto al giovane Porcellini Che in passato è stato anche un tuo giocatore Ricordiamo è un prodotto del vivaio pesarese Che giocatore è Domenico? È un giocatore molto intelligente Non ha una punta di corsa massima eccessiva Però legge benissimo la difesa Diciamo che la sua carta difensiva migliore È la lettura della difesa E portare sul muro difensivo Non finisce mai in inferiorità numerica È molto molto bravo in quella fase di gioco Ed è una fase di gioco molto importante Su un campo pesante Adesso calcio che esce direttamente dal fondo della Lazio E quindi se non sbaglio si riprende con una mischia Dal punto in cui hanno calzato Quindi un buon avanzamento in questo caso Lazio che prima non era riuscito a trovare l'out Con il calcio di punizione E quindi Pesaro è stato brava A ricalciare la palla nella metà campo difensivo della Lazio E poi la Lazio che ha sbagliato questo calcio Una partita che molto sicuramente dipenderà anche da tutti questi calci Una partita anche se non sembra molto pesante Per cui i calci e le mischie faranno la differenza Mi sembra che la Lazio abbia un po' più di fretta del Pesaro Se il Pesaro riesce a mantenere questa freddezza e questa lucidità Ci toglierà delle belle soddisfazioni Diciamo la verità Chi è che ha tutto da perdere in questa partita? La Lazio Non che perderebbe molto Visto il vantaggio che ha sulla seconda Però è Lazio che vuole sicuramente provare a fare l'unplain in questo campionato Vincendo tutte le partite Ricordiamo che la Lazio è la squadra che l'anno scorso è scesa dall'eccellenza Ed è la maggiore indiziata per risalire nella massima serie Adesso è la Reciarte che va a terra con la palla Non la mette a disposizione, si rialza, prova a rigiocare E l'arbitro non può far altro che fischiare il fallo di punizione in favore della Lazio Questa volta il calcio di punizione è corto e sicuro Trovano la Tush E adesso Pesaro dovrà nuovamente riuscire a fermare, a bloccare la molle della Lazio Un Alassio che credo ci dia almeno 100 kg nei primi 5 uomini Penso proprio di sì Però stanno rispondendo molto bene Anche in mischia chiusa i nostri Hanno un'ottima tecnica di ingaggio Per cui riescono a trattenerli molto bene Adesso vediamo questa palla che hanno giocato in velocità Per ora non hanno mai conquistato la linea del vantaggio Vediamo se Peso riesce a mantenere questa forza difesa che ha Adesso altro calcio di punizione in favore della Lazio C'è un vantaggio appunto precedente Vediamo che cosa deciderà di fare qui la Lazio Se andare per i pali o cercare una Tush La posizione centrale, la distanza non è poca Però dai pali quasi a metà campo Infatti decidono di andare in Tush con Cruciani Ricordiamo fra l'altro che nella Lazio Con il numero 14, quindi l'ala qua vicino a noi È un ragazzo marchigiano, Iesino Il giovane Vittorio Santarelli Fra l'altro figlio di un ex dirigente di Iesi Che per lavoro si è trasferito a Roma E lui ha trovato spazio in questa squadra Ha già giocato in eccellenza E quest'anno è rimasto alla Lazio anche in Serie A Adesso altra Tush, prima l'hanno aperta Qui sono vicini all'area di meta Più facile che proveranno ad impostare una molle Così è Pesaro deve mettercela tutta per cercare di bloccarla Ancora palla dentro L'arbitro non la ferma Forse la devono giocare, ancora no Buona la difesa di Pesaro Decisamente buona L'arbitro fischia Palla che non esce e quindi palla alla difesa Bellissimo lavoro difensivo del Pesaro Non è facile difendere una rolling mule Ne hanno già difese due in maniera egregia Ottimo lavoro Fatto in allenamento e si vede il risultato Ottimo lavoro dei tecnici Pansieri E Nick Scott In settimana fra l'altro è arrivato anche Pratichetti A dare una mano dall'esterno Evidentemente si vedono i buoni risultati del lavoro Fatto in settimana dagli uomini di Mischia Adesso Mischia per Pesaro Palla che deve uscire velocemente Per consegnarla a Giobert Per il calcio di allontanamento Ricordiamo che oggi nella linea di tre quarti pesaresi Erbolini appunto è schierato all'ala A differenza di tutte le altre partite Dove ha fatto coppia fissa con Paletta ai centri E invece con Paletta oggi come centro C'è appunto Porcellini di cui parlavamo prima E poi Stura che va a completare con la Reciarte Il triangolo arretrato Arbitro Doardi che fa ripetere la mischia Sempre Boccarossa A inserire l'ovale Pesaro viene portato indietro dalla Lazio Ma riesce comunque a mantenere l'ovale Paletta ad andare a contatto con i difensori Si forma la RAC E adesso dovrà andare un buon pallone A Giobert per liberare Il pallone non era ottimo Ma il calcio di liberazione Invece lo è abbastanza Purtroppo non esce Ricupera Gilligan L'apertura della Lazio Pesaro che sembra fare buona guardia Vicino la RAC Ci mette un po' troppo a mettere a terra gli avversari E alla fine c'è un tenuto dei Laziali E Pesaro recupera ancora un pallone Davvero continua ad essere notevole la prova difensiva dei giallorossi in questo via di partita Leggono in anticipo le posizioni Si sanno schierare molto molto bene Sono determinati a farlo in avanzamento Non ho visto la Lazio ancora conquistare la linea del vantaggio Grande Pesaro E adesso gran bel calcio di Giobert Si riprende con una touche più o meno da metà campo Anzi esattamente da metà campo Tanto terreno pesante Il clima decisamente rigido al Totti Patrignani di Pesaro Tucci sull'ultimo blocco Nessuno pronto a riceverle Allora la Lazio che recupera l'ovale Adesso ho messo a terra il numero 10 della Lazio E adesso va dritto per dritto Invece è il numero 8 donato E adesso è Pesaro che deve fare buona guardia dietro Stura è comunque sul pallone E ha tutto il tempo per ricalzare la palla nella metà campo della Lazio Purtroppo esce forse un po' troppo presto questo vale E quindi si riprenderà con una touche in favore della Lazio nella metà campo di Pesaro Vediamo la Lazio che cerca di organizzare al meglio la touche Forse qualche sassolino nell'ingranaggio lastiale Pesaro l'ha già messo Sì direi di sì Quando inizia a togliere delle certezze nell'avanzamento Inizia a fare scricchiolare tutte le tue certezze Inizia a arrivare fuori Viene fuori la fuga Di conseguenza l'errore Pesaro sta facendo anche in questo momento Un'ottima posizione difensiva E loro dimostrano di essere abbastanza nervosi Abbastanza nervosi Ricordiamo cosa piuttosto facile per una squadra Che ripetiamo ha vinto tutte le partite di questo campionato Sin qui un girone senza aver mai incontrato grossi problemi E soprattutto adesso altro gran placcaggio di Pesaro Che fa esplodere il pallone appunto al pilone della Lazio E quindi questa volta si riprende con un'altra mischia in favore di Giallorossi Fra l'altro una sfida nella sfida per esempio per il pilone pesarese Franco Che fino all'anno scorso era proprio la Lazio Quest'anno ha scelto di venire a Pesaro per crescere ancora E per soprattutto probabilmente giocare anche di più E quindi ritagliarsi un posto da titolare Uno di quei piloni che sarebbe bello rivedere anche il prossimo anno con la maglia giallorossa Adesso grossa la spinta iniziale della Lazio Pesaro riesce a mantenere comunque il passesso Calzone di Jobert che non esce Vediamo che comunque è molto scivoloso il campo Il centro della Lazio Gianni ha fatto fatica a rimanere in piedi sulla presa E quindi si riprende ancora con una touche in favore della squadra romana Uno Jobert che sceglie molto il calcio per andare a esplorare la metà campo Avversaria ma forse con una mischia così in sofferenza Non ha poi così tante scelte Tatticamente su un campo del genere il calcio per la conquista del terreno È la cosa che prevale di più perché l'errore nello spostamento della palla a mano È facilissimo visto che non si riesce a stare in piedi Jobert tra l'altro nelle sue qualità migliori Sono proprio l'utilizzo del piede Si vede la differenza e il conquista E adesso intanto una grande azione per Pesaro Perché è riuscita ad andare Vai 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 con la resciarte sulla destra Purtroppo non riesce ad arrivare fino in meta Viene trascinata sull'auto di destra C'era un vantaggio per Pesaro Tutto nasceva da una tush rubata Con un grandissimo avanzamento di Franco Adesso però alla fine era riuscito a distendersi Pesaro sulla destra Palla per Stura che aveva bruciato alcuni uomini della retroguardia lastiale Ha scaricato poi alla fine per la resciarte A poco più di 5 metri della linea di meta Ma è stata brava la difesa lastiale a spingerlo Sull'auto di destra Adesso tush in favore della Lazio Leo che prova a disturbare Non ci riesce e allora si riparte sui 5 metri Il rack per i lastiali Adesso saranno loro a dover buttare via il pallone Calciarlo lontano La Lazio avanza Rack dopo rack Vediamo quando la consegneranno al loro calciatore Questo è il momento Gilligan pronto a calciare Palla che rimane all'interno La tiene la resciarte che serve Stura Stura che va dentro Serve il sostegno puntuale Arriva la resciarte per Capitano Villarosa Che va a contatto Borac per Pesaro Boccarossa che prova a dare ritmo Per Caroli E lui che va a contatto Palla dietro Sembra non rotolare Il giocatore della Lazio E Boccarossa che serve Giobert Ottimo il placaggio Su Paletta Che riporta indietro i pesaresi Che mantengono comunque L'ovale Adesso Boccarossa A servire Franco Che comunque va oltre la linea del vantaggio Boccarossa che prova a dare ritmo Con E adesso calcio di Stura Per la resciarte Che intelligentemente la tiene dentro Con un calcetto Il guardaline Alza la bandierina Da qua diciamo la verità Sembrava che il calcio fosse dentro Il guardaline è convinto della sua scelta Si riprenderà con una tush In favore In favore della Lazio Quel che è vero È che Pesaro È nella metà campo della Lazio Capolista Che soffre E non poco La pressione di Giallorossi Come avevamo già detto dall'inizio Si stanno nervosendo i laziali Se continuiamo a tenere La lucidità E questa pressione qui Ci toglieremo delle belle soddisfazioni Contro una squadra Che è appena scesa Dal campionato superiore È proprio lì Che si giocherà la partita Sugli 80 minuti Bisognerà vedere Se riusciremo a mantenere La stessa intensità Per l'intera partita Adesso è la Lazio Che prova A impostare la sua rolling mall E fa fatica A impostarla Diciamo la verità E infatti ecco La penander Del mediano Di mischia Della Lazio Adesso è Stura Questa volta A prendersi gioco Ancora della difesa Laziale Pesaro che ha Ancora l'ovale in mano Bocca rossa Per paletta Ed è paletta A provare Un calcetto Per mettere pressione Alla Lazio E adesso deve essere brava Pesaro A mettere Ancora pressione E Pesaro Effettivamente Tiene La Lazio Lì Nello stretto Continua a giocare La Lazio Rack Dopo rack Diciamo che Il campo non permette Un Gioco Di fino Veramente pesante Molto bagnato Adesso È Stura A riconquistare L'ovale E a cercare Un calcetto basso Per mettere In difficoltà La Lazio Che va In touch E quindi Si riprende Con una touch In favore Di Pesaro Nella sua Metà campo Lazio che forse Non si aspettava Una partita Così difficile No Non si aspettava Che Pesaro Gli togliesse I punti di forza Specialmente Gli avanzamenti Attorno alla mischia Visto che ci provano Spesso e volentieri Di andare Ad attaccare Con quelle che si chiamano Nere Attacche A dieci metri Dal punto di partenza E adesso Un'ottima touch Per Pesaro Sul primo blocco Venturini Che la conquista E soprattutto Che subisce Il fallo In aria Da parte Della Lazio E quindi si riprende Con un calcio Di punizione In favore Dei pesaresi Pesaro Che in touch Dimostra Di Saper fare Il Suo gioco Ad eccezione Di una touch Sbagliata Nei primi minuti Dalla parte Opposta E adesso Un'altra touch Sotto La tribuna Intanto Vediamo che Fermano Il gioco C'è un giocatore Di Pesaro Fuori dal campo Il talloner Il giovane Stefanini Altro giocatore Del Vivaio Pesarese E altro giocatore Che è stato Seguito Da Azzolini Cosa ci dici di lui? Un giocatore Eccezionale Purtroppo La federazione Ha dei parametri Che non si riescono A capire Ma è un giocatore Di altissimo livello Lo dimostrava già 16 anni Tant'è che Quest'anno Ancora Nella 19 È già È da inizio Stagione Che è fisso A giocare In Serie A Pochi tallonatori Come lui In questa età qui Ma evidentemente Il prosciutto Che hanno negli occhi Quelli della federazione Ha questi risultati Una critica Che la federazione Forse Dalla sua Non ha Un fisico Di quelli Immensi Che tanto piacciono Nel rugby Di alto livello Bisogna imparare una cosa Quanto fai Informazione Che noi siamo italiani Se ti aspetti I giocatori Alti 2 metri 10 Non li troverai mai Da noi devi guardare Gente che ha la testa E la capabilità Di voler arrivare E lui ce l'aveva E intanto Vediamo Una grandissima Informazione di Pesaro La posizione È favorevole Non diciamo Nulla di più Fra l'altro Jobert Che è stato Reale Protagonista Dell'ultima vittoria Contro Civitavecchia Con un 5 su 6 Su un campo Pesantissimo È stato Determinante Per La terza vittoria Consecutiva Per i giallorossi Silenzio Al Totti Patrignani E la palla È dentro I pali Fiorini Pesaro Rugby Che incredibilmente Si trova In vantaggio Per 3 a 0 Sulla Lazio Capolista Di questo Girone Di serie A Passati almeno 25 minuti Di questo Primo tempo E adesso Si riprende Con Il calcio Di avvio Di Donato Della Lazio Stura A recuperare L'ovale E a Ricalzare Nella Metaca Verso La metaca Metà Campo E quindi Si riprende Con Una Tush In favore Della Lazio Ora vediamo Quale sarà La reazione Dei Laziali Che hanno Tutto il tempo Per Provare Impostare La loro partita E La rimonta Di certo Non avranno Vita facile Vista La Pesaro Rugby Scesa In campo Oggi Li vedo Li vedo Molto Ben Concentrati I nostri Sono tranquilli Non ci sono mai scomposti Al contrario Della Lazio Che mi sembra Non conosco bene La Lazio Logicamente Un po' più nervosa Visto che Gli sono stati tolti Alcuni punti Di riferimento Tenendo presente Che la partita E sulla mezz'ora Ancora Sono stati segnati Solo tre punti È una gran battaglia Che si svolge Più o meno A centro campo Noi Palle in mano Conquistiamo Qualco metro in più Ma qualche metro Non fa la differenza Partita sicuramente Sin qui davvero Molto Molto Equilibrata E adesso È la Lazio Che prova A spingere Con il suo gioco Al piede Risponde Stura Calcio Nelle mani Di Gilligan Adesso È Giobert Che si è posizionato Bene Dietro In copertura E quindi È lui A cercare Un calcio Purtroppo Calcio Non troppo Fortunato In Questa Lotta Al piede E quindi Alla fine È a guadagnare Territorio E metri E la Lazio Che potrà Ripartire Con una tusce Dentro la metà Campo Pesarese Abbiamo La Lazio Scende di categoria E dimostra Di essere molto intelligente Ha cambiato Immediatamente Modo di giocare Come ha visto Che con I pick and go E comunque Lo sfondamento Con le nere Attorno ai Regruppamenti Non riusciva a passare Si è dedicata Completamente A un gioco diverso Quello al piede Che Gli sta dando Qualche frutto E adesso Sono stati bravi Anche a Evitare Di provare A impostare La loro Rolling Mall E adesso Un fallo Che si poteva Forse evitare Dal posto Dal posto Si è sollevato Nel momento Peggiore Più sbagliato Andando A dare fastidio In fuorigioco All'attacco All'astiale E quindi Lazio che riparte Con una tusce Ripartirà Con una tusce Sui Cinque metri Situazione Molto pericolosa E difficile Per Pesaro Dovrà essere bravo A A dare fastidio All'attacco Laziale Che vediamo Se proverà A impostare Una Rolling Mall O piuttosto Aprirà Il pallone Portano la palla A terra Come era prevedibile Vista l'ottima Touche Provano A Provare La Rolling Mall Mall Che si muove Prima lateralmente Poi sembra Che entrino Nell'area di meta L'arbitro ancora Non ha fischiato nulla Vediamo È crollata Quindi devono Sicuramente Aprirla Alla fine L'arbitro Fischia Calcio di punizione Per Pesaro Probabilmente Anche in questo caso La palla non è uscita Per quello Gran lavoro Della difesa Da drive Come abbiamo già Sottolineato prima Questa è una cosa Che prepara in allenamento Deve avere la lucidità Poi di applicarla in campo L'hanno applicato Anche in questo momento Con gran lucidità E hanno avuto il cambio palla Buon per Pesaro Che potrà Riprendere E soprattutto Rifiatare Con un calcio di punizione Affidato ai piedi di Gioberta Adesso chiamano In campo Il Dottore L'arbitro riprende Rifischia la ripresa Del Mets E quindi Calcio di punizione Per Gioberta Non guadagna tantissimi metri E quindi Si riprenderà con una touche Per Pesaro Nella sua metà campo Stefanini al lancio Sceglie l'ultimo blocco Ma Pesaro Fatica Infatti Non mantiene l'ovale Che viene recuperata Dalla Lazio Adesso il numero uno Corcelli A provare A sfondare Pesaro E Lazio Che prova A Distendersi Sì Sull'out di destra Pesaro bravissimo Al placcaggio C'è un vantaggio In favore Della Lazio Forse Pesaro Non Scivola Subito E comunque c'è La Lazio Che prova a sfondare Per linee centrali Con Santarelli Lazio che mantiene L'ovale Adesso è Pesaro Ottima Nella difesa Ma si torna Sul vantaggio Precedente Sul fuorigioco Di Pesaro E adesso Vediamo che cosa Sceglierà di fare Alla Lazio Se andare Per i tre punti E quindi Impattare Nel punteggio O proverà Ancora Una volta A giocare Scelgono la tuscia Ancora una volta E' un Lazio Che vuole giocare Vuole fare punti Diciamo Che Onestamente Non ha bisogno Di portare a casa Una vittoria Risicata Ma ha bisogno Probabilmente Anche di Oliare I suoi meccanismi Una volta Che trova Fra l'altro Una squadra Che gli da Che appunto La mette in difficoltà Prova A portare a casa E a oliare Al massimo I suoi meccanismi Adesso Tuscia Portata a terra Dalla Lazio Che prova A impostare La rolling mall E alla fine E infatti Riescono Ad arrivare In meta Adesso Meta Della Lazio Che si porta Sul 5-3 Alla lunga La Lazio Ha avuto ragione Alla lunga La Lazio Si vede Che di una categoria Superiore Ha scelto Il piede Per arrivare A ridosso Della linea Di meta Poi la loro Arma migliore Che abbiamo visto Dall'inizio Questa rolling mall Che fanno bene Con uomini pesanti Pesaro sta difendendo bene Ma ancora La partita è lunga E ancora La Lazio Gli andrà dura Anche perché C'è da dire Che comunque Pesaro Aveva Era riuscito A contrastare Tante rolling mall E ovvio Se una rolling mall A 5 metri Dalla linea Prende l'abbri Vio Poi diventa Praticamente impossibile Fermarla E a quel punto Si trasforma in meta Partita comunque Più che aperta Adesso Vediamo il calcio Di trasformazione Dell'estremo Donato Calcio da posizione Molto complessa Fra l'altro Donato E un destro Vediamo Se riesce A centrare i pali E così è Davvero gran calcio Per Donato La Lazio La Lazio Che quindi si porta In vantaggio Per 7 a 3 Sulla Fiorini Pesaro Rugby E adesso è Pesaro Che deve portarsi Nella metracampo Avversaria E tornare a mettere Pressione Alla Lazio Come nei primi 20 minuti Di questa partita Un buon calcio Di Giobert Presa sicura Per la Lazio Ma è ottima La salita difensiva Di Pesaro Numero 9 Cristofaro Che fa uscire Il pallone Calcio dalla base Ruamei A conquistare L'ovale E a Guadagnare Metri Adesso è Boccarossa Che deve mettere In ritmo I suoi Palla per Antonelli Altro importante Ball carrier Della squadra Pesarese Palla per Franco Altri metri In avanzamento Vediamo Se riesce A mantenere L'ovale Pesaro Così è Boccarossa Per Giobert Che prova A far distendere I tre quarti Pesaresi Ottimo La Resciarte Che deve mettere Questa volta La palla A disposizione Dei suoi Ci riesce Ottimo Boccarossa Che arma I suoi Villarosa Per Venturini Diciamo Che i contatti Sono da Serie A Di livello Alto Sicuramente Non è una squadra Che la manda a dire La Lazio Sono impatti Importanti Adesso È buono Anzi Ottimo Il buco Di Giobert Pesaro Che riesce A mantenere L'ovale Pesaro Che guadagna Metri Che sta giocando A testa alta Come voleva Il suo allenatore Come era il piano Partita Sicuramente E adesso Antonelli Ad andare All'autoscontro Riesce A mantenere Il pallone A metterlo A disposizione Dei suoi compagni Boccarossa Per Giobert Giobert Che serve Bellareciarte Sull'esterno Che riesce A mantenere Il pallone A rimanere In piedi Adesso Pesaro Che prova A dare ritmo Palla Dal posto Che la perde Indietro Riesce a riconquistarla E va a contatto Lui Pesaro Che è dentro I 22 Della Lazio Pesaro Che prova A mantenere Il vantaggio Palla Comunque Recuperata Da Porcellini In maniera Quasi magica Pesaro Che mantiene Il vantaggio Adesso è Santino Ad andare Ancora Nell'uno Contro Uno Faticano A fermarlo Probabilmente La Lazio Non si aspettava Una partita Così fisica E così Diretta Adesso Palla All'esterno Per Mei Va a terra Vediamo Pesaro Riesce a mantenere Il vantaggio Palla dentro Ancora In avanzamento Davvero Brava Pesaro Davvero brava Davvero Grandissima pressione In attacco Adesso Ancora Palla Per Franco Ed è una Grandissima meta È una meta Splendida Quella di Pesaro Non so davvero Quante siano state Le fasi Che Pesaro Ha portato avanti Almeno 6-7 Forse di più È stata davvero Una meta Incredibile Dove tutta la squadra Ci ha messo del suo Praticamente Sempre in avanzamento E alla fine Franco Santino Franco È riuscito Ad andare Oltre la linea Di meta Nell'uno Contro uno Non è stato fermato Adesso vediamo Che viene chiamato Il dottore C'è un giocatore Pesarese A terra Ma davvero Davvero Una meta Da incordiciare I lacrimoni Si vede Che questi ragazzi Meritano la maglia Che indossano Se ho contatto bene Sono 16 fasi 4 cambi di fronte Continui Per arrivare alla meta Solo dei grandi giocatori Riescono a tenere Un ritmo Così alto Per almeno 3 minuti e mezzo Di fila Bravi ragazzi Cuore giallorosso Davvero Davvero Una meta Che può entrare Negli annali Della Pesaro Rugby Che avremo piacere Di rivedere Poi Durante la Settimana Adesso Da capire Chi è il giocatore Pesarese Rimasto A terra Forse Una prima linea Vediamo I giocatori In piedi Forse è dal posto Che è rimasto a terra Aveva subito Un contatto Importante Anche prima Vediamo se Riuscirà Quanto meno A chiudere Il primo tempo In campo Jobert Non trasforma Ma Pesaro È in vantaggio Per 8 a 7 Partita Stupenda E partita Più aperta Che mai Adesso si riprende Con il calcio Della Lazio Donato Donato al calcio Intanto vediamo Che dalla panchina Pesarese Si scalda L'ennesimo Prodotto Del vivaio Giallo-rosso Leva Sembra che dal posto Non riuscirà A continuare La partita Intanto Anche dagli spalti Si alza Il tifo Per Il piloncino Pesarese Una La prova Che Se uno vuole E si impegna E si allena Giorno dopo giorno Può arrivare A giocare In serie A Da protagonista Un ragazzo Che dà grandi soddisfazioni Bravo In tutto Ma specialmente Come giocatore Cresciuto tantissimo Nel prodotto Del nostro Vivaio Che sta lavorando Molto bene Ma Devi avere Giocatori di qualità Per mettere Giocatori In serie A E lui ha Tanta qualità Fra l'altro Leva Che è stato Premiato Settimana scorsa Come Man of the match Contro Il Civitavecchia Civitavecchia Che aveva una mischia Molto pesante E adesso E Pesaro A Guadagnare A recuperare Bene L'ovale Con Mei E adesso E Gioberta A doverla calciare fuori Pesaro deve essere Sveglia In questo caso Subito A reagire A salire Adesso Il numero 8 Donato Che era risalito E vediamo Pesaro Che È chiamato Ovviamente A Fermare la marea Blu Laziale Adesso E Santarelli Ad andare A contatto Pesaro Non riesce A far su Il pallone Ma Riesce A ribattere Colpo Su colpo Vediamo Buoni Placaggi E buona La difesa Avanzante Pesarese Adesso Sull'auto Di destra Deve riuscire A porre Un freno Alla Lazio Pesaro Che deve Risistemarsi In difesa C'è un vantaggio Per Alla Lazio E l'arbitro Fischia Il calcio Di punizione In favore Della Lazio Che Se tanto Ci da tanto Andrà ancora Una volta In tuscia Vista anche La posizione Del calcio Di punizione Diciamo Che Come ti rilassi Un attimo La Lazio Pronta Lì a punirti Quindi la difesa Deve essere sempre Di altissimo livello Sono abituati A giocare A un altro ritmo E cambiare Velocemente Idea Sono partiti Con un tipo Di gioco Hanno cambiato Tipo di gioco Adesso Che hanno avuto La possibilità La prima vera Possibilità Hanno aperto La palla Destra Sinistra E hanno conquistato 20 metri di campo È un piacere Giocare con questa squadra Ma i nostri Si stanno facendo valere Adesso serve Adesso serve la massima Di segnare la meta La meta Forse sì Vediamo i giocatori Della Lazio Tornare indietro Quindi probabilmente Meta In favore Della Lazio Lazio che ha fatto Un bel gioco L'uomo Alzato In touch Ha servito All'interno Il compagno Lì hanno spinto In meta Insomma La palla Prendere due metri Di inerzia A cinque metri Dalla linea di meta Diventa Veramente impossibile Difendere la situazione Loro sono molto Molto bravi In questo È la seconda meta Che fanno Da roll in ball Non dobbiamo Farli avvicinare Ai nostri 22 E dobbiamo Quanto più Evitare ovviamente Falli Per concedergli L'occasione Di andare A cinque metri Dalla linea di meta Con Una tuscia Adesso vediamo Il calcio Di donato Un gran peccato Perché poi Meta che è arrivata Se non sbaglio Proprio Sullo scadere Del primo tempo In questo caso Non va Il calcio Di trasformazione Di donato E quindi Primo tempo Che si chiude Con la Lazio In vantaggio Per 12 a 8 Sulla Fiorini Pesaro Rugby Linea allo studio Tutto pronto Al Totti Patrignani Per il secondo tempo Fra la Fiorini Pesaro Rugby E la Lazio Scusate Primo tempo Che è terminato Sul 12 a 8 Per I Bianco Celesti Ma giallorossi Più in partita Che mai Giallorossi Che hanno Fatto tremare In questo primo tempo La Lazio Una Lazio Che ricordiamolo È la leader In questo Campionato Non ha mai perso E che Forse a Pesaro Si immaginava Una partita Più semplice Così Per nostra fortuna Non è Pesaro Ha giocato Un gran primo tempo E adesso Ecco la Lazio Che è subito Partita Decisa Con una Rolling Mall Decisamente avanzante In questo Secondo tempo Oltre 20 metri Conquistati Dalla Lazio Pesaro Che deve fare Di tutto Per bloccarla C'è stato Si riprende Con un calcio Di punizione Per i Laziali Si sente L'incitamento In inglese Nella squadra Laziale Da parte Del numero Otto Donato Fra l'altro Fratello Del estremo L'altro Daniel Lewis Donato Il numero 15 I due Australiani Naturalizzati Italiani Che giocano Nella Lazio Mentre Da Stranieri Giocano Il numero Tre Pilone E L'apertura Che sono Appunto Due giocatori Argentini Ora Tush Per La Lazio Vediamo se Proveranno ad aprire O daranno Ancora spazio Alla loro Rolling Ball Pesaro Non contrasta La Tush Adesso Palla fuori Pesaro Deve essere pronta A Provare a mettere le mani Sulla palla Non riesce Buona comunque La difesa Dei pesaresi E adesso È Pesaro Che recupera Le vale Lo vale Con un intercetto Di Stura Pesaro Che è brava A portare sostegno Purtroppo Lì in avanti Con Caroli Che perde La palla E adesso Comunque Pesaro Che può provare A fare il suo gioco Erbolini Che riesce A recuperare Il pallone Sostegno Da parte Dei compagni Ma Pesaro Non riesce A mettere a disposizione Lo vale E quindi È calcio di punizione Per la Lazio Davvero un peccato Perché era stato Bello Il recupero Di Stura Purtroppo Lì in avanti Di Caro Lì ha vanificato La grande giocata Dell'estremo Pesarese E purtroppo Si ritorna Con una touch Sui 5 metri In favore Della Lazio La Lazio Che ha Iniziato Questo Secondo tempo Ai 100 All'ora Ed effettivamente Si vede Che sta mettendo In difficoltà I giallorossi Si Decisamente Sono rientrati Con un altro piglio Sono squadre Che sono abituate A tenere il ritmo alto Per 80 minuti Noi su questa cosa Bisogna che cresciamo Per aumentare ancora di più il livello Però la partita ancora è lunga Pesaro che non contrasta La touch Pesaro che non fa muro L'arbitro prova Dice che possono giocare Non fischia in favore di Pesaro E adesso Vediamo Effettivamente Pesaro che riconquista L'ovale Per Un muro Da parte Della Lazio Si riprenderà quindi Con un calcio di punizione In favore di Pesaro Pesaro che ha cambiato Anche diversi effettivi Dei primi 15 Perché A inizio Secondo tempo È entrato Tontini Per Mei Ed è entrato Anche Bartolo Mei Per Stefanini Quindi Forze fresche Per Pesaro Serve L'aiuto Di tutti i giocatori Della Rosa Azzallo-Rossa E intanto Pesaro Ha conquistato Una Buona Tush Adesso Vediamo Bartolomei Il lancio Vediamo Vediamo Il lancio Di Bartolomei Vediamo Sceglie Il secondo blocco Purtroppo Pesaro Si capisce Ben poco In questa Tush Nessuno A saltare Addirittura Probabilmente Non si erano Capiti bene Prima Rispetto a quello Che volevano fare Adesso È un Lazio Che spinge Pesaro Deve un attimo Ritrovarsi In questo Secondo tempo Che non l'ha iniziato Sicuramente Con il piglio Del primo E adesso Soprattutto Grandissima Grandissima Presa Penso Di Santarelli Sull'out Di sinistra E adesso È la Lazio Che prova A distendersi Con i suoi uomini C'è un In avanti Vediamo L'arbitro Esattamente In avanti Della Lazio L'estremo donato Non tiene Il pallone In mano E quindi Si riprende Con una mischia In favore di Pesaro Una mischia Adesso Tutta da vedere Visti Visto che La prima linea È cambiata Per Due terzi E non è cambiata Solo la prima linea Pesarese Vediamo Se Pesaro Riuscirà comunque A tenere in mischia Contro I primi Otto pesanti uomini Della Lazio Vediamo Questa prima linea Pesaro Purtroppo In questa fase Ha perso L'efficacia Nel placcaggio Che aveva All'inizio Specialmente Del primo tempo E ha dato Un po' più Di sicurezza Alla Lazio E sono giocatori Quelli della Lazio Che con la palla In mano Se guadagnano Un metro Sanno quello Che devono fare Pesaro Deve tallonare Velocemente E soprattutto Anzi Sembrava Che avessero Tenuto In difesa Alla fine Non è stato così Secondo me Pesaro Doveva Tallonarla Velocemente Piuttosto che Sfidare In una prova Di forza La Lazio Ci ha provato Non l'hanno allenata Sì Alla fine Ci hanno inciampato Ci hanno provato Comunque A tenere La mischia Della Lazio Così non è stata Adesso è un calcio Di punizione Per la Lazio Lo sapevamo Non si possono Commettere errori Contro una squadra Di questo livello Ogni minimo errore Viene punito Pesaro Fin qui Ha fatto la partita Adesso sta iniziando Un po' A pagare lo scotto Delle tante energie Spese Nei primi 40 minuti La partita è ancora lunga Però E sicuramente I Zallorossi Possono ancora Dire la loro Adesso Tusch In favore Della Lazio Se riusciamo a tenere Buotte I primi 10 minuti Che sono i minuti Di abbrivio Del secondo tempo In cui la squadra Che ha più carattere Che ha più esperienza Cerca di accelerare Se teniamo buotte I primi 10 minuti Poi riliveliamo La partita E abbiamo buone Buone speranze Adesso Ci si gioca La partita E altra Rolling Mall Della Lazio Pesaro Che prova A contrastarla Quasi tutta la squadra Dentro Vediamo La Lazio Che va a terra Pesaro Che prova A rimpostare La sua difesa Ancora È guerra di trincea E lì sulla linea Si difende Sulla linea di meta Vediamo Se Pesaro Riuscirà O se Apriranno Il pallone La Lazio Non pare In questo momento Voler aprire il pallone È il numero 9 Che dice Ai suoi avanti Ancora di entrare Ecco che Invece adesso Prende la palla Per aprirla Vediamo Se Pesaro Riuscirà A contrastare I tre quarti Della Lazio Ancora Palla in mano Per i giocatori Della Lazio Si muovono Lì vicino La RAC Il numero 9 Veloce A Consegnarla I compagni E alla fine È calcio Di punizione Contro la Lazio E ovale Conquistato Da Pesaro Questa situazione Vale la partita Uscire adesso Da questa fase Con una palla Una vittoria Di conquista In questa difficoltà Vale sicuramente L'abbrio Della partita Da parte nostra Adesso tutto Nei piedi Di Giobert Che deve trovare Una tuscia Corta E sicura Potrebbe trovare Sicuramente Una tuscia Migliore Adesso deve essere Pesaro Bravo A portarla giù E a riguadagnare Campo Probabilmente Con il piede Dello stesso Giobert Certo è che Pesaro Si è tirato fuori Da una situazione Complicatissima Pesaro Che da inizio Secondo tempo Non fa altro che Difendere Dentro la sua Metacampo Quindi sono quasi Dieci minuti Che Pesaro Cerca Di mettere In difficoltà L'attacco Pesarese Purtroppo Non sta andando La tuscia Pesarese Però è bravo Giobert A recuperare L'ovale E soprattutto Questa volta Ci sono i tuffi In rack Da parte Della Lassia E quindi Enesimo calcio Di punizione Per Pesaro Che Può rifiatare E questo è Ossigeno puro Per i Zallorossi Con gran fatica Stiamo riconquistando Campo Ma i ragazzi Vedo sicurezza Nei loro occhi Sta crescendo La sicurezza In loro Se vanno avanti Così Andiamo a giocare Dall'altra parte Continueremo a vedere Una bella partita E questa volta È un gran calcio Di punizione Un gran bel calcio Di punizione Di Giobert E quindi Una buona Touche Per Pesaro Vediamo se Questa volta Bartolomei Si troverà meglio Con i suoi Compagni Di squadra Fin cui i lanci Non sono stati Particolarmente Fortunati Non solo per colpa sua Probabilmente manca Qualche automatismo In touche Quando c'è lui Saratouche Per la Lazio Forse in questo caso Stura Poteva Esplorare il campo Anche lui Con un calcio Così non ha scelto Ha provato A contrattacare E in fondo Era sulla linea Di metà campo Ed era un rischio Che si poteva Prendere E adesso Entra A Serra Per Franco Franco Ha fatto davvero Una grande partita Sin cui Forse era Troppo Chiedergli Anche oggi Ottanta minuti Di sacrificio Lì davanti E Al suo posto Una Serra Che è rientrato Domenica scorsa Dopo Essersi purtroppo Infortunato Alla prima Di campionato Vediamo Come andrà Contro La mischia Laziale Pesaro Che non riesce A mettere A dar fastidio Alla tush Della Lazio Che però Lancia storto E quindi La palla Passa Nelle mani Della squadra Giallorossa Vediamo se Pesaro Sceglierà Tush O mischia Facile Che sceglierà La tush Anche se Sin qui Non è stata Particolarmente Fortunata In questo Secondo tempo Vediamo Un po' Come andrà In questo caso Il lancio Tutti i giocatori Pesaresi Con il loro Lanciatore Bartolomei A decidere Il blocco Di tush Su cui Lanzare Alla fine Vanno per Un ultimo Blocco Tontini Si inserisce Ma Purtroppo Commette Un in avanti Nessuna colpa Tontini Purtroppo Però Non ci sono Gli automatismi Di lancio E ascensore Diciamo Effettivamente Pesaro Se gli viene A mancare La tush Già che soffre In Mischia Diventa Praticamente Impossibile Giocare Senza fonti Di gioco La tush È una delle Armi Basilari Del rugby Moderno Ne abbiamo Regalate Cinque Ci sono Cinque Palle Conquistate Con la linea A dieci metri Non è Sono regali Che non puoi fare A questa squadra Adesso E adesso E adesso E la Lazio Che prova A distendersi Sull'auto Di destra Bella l'azione Bravo Gioberta A mettere A terra Il dieci Avversario Adesso Deve essere Brava Pesaro A recuperare Sull'auto Il calcetto Ma c'era Un fuorigioco Precedente Anzi Placcaggio alto Ha fischiato L'arbitro Probabilmente A Giobert Sul numero Dieci Della Lazio Vediamo Che cosa Sceglierà Di fare Il Quindici Bianco Celeste E vanno In tush Altra tush Sui Cinque Metri Pesaro Chiamata Gli straordinari In questa partita Per respingere Gli attacchi Della Lazio Una partita Di grande Sacrificio Per Tutti I ragazzi Giallorossi Ci stanno mettendo Alla frusta Ma ancora Non I ragazzi Non hanno alzato Bandiera bianca Ci stanno organizzando Sempre meglio Perché comunque Per loro È importante Essere Allenarsi Giocare Con una squadra Di alto livello Per crescere Ancora E comunque Vediamo Che La Lazio Allarga Il gioco E riescono Ad andare In meta Con La loro Ala Finalmente Sono riusciti Ad aprire Una palla Precisa E perfetta E ad andare Oltre la linea Di meta Quindi Lazio Che si porta Sul 17-8 E poi ci sarà Adesso Il tentativo Di trasformazione Da donato Da buona Posizione Terza meta Di partita Per La Lazio Che ancora Quindi non ha Raggiunto il bonus E quindi sicuramente Continuerà a spingere In questo match E Pesaro Che Dovrà Cercare Di rialzare La testa In questa In questa Fine di partita Ancora manca molto Circa 30 minuti Quindi 19-8 Adesso Per la Lazio Fiorini Pesaro Rugby Che non deve mollare Adesso Deve Alzare La testa E tornare A sfidare La Lazio Nella sua Metà campo Adesso Un cambio Fra le fila Della Lazio Entra Il numero 6 Pilati Ed esce Una delle Terze Linee Parlatore Della Lazio Adesso E Pesaro Che deve portare Pressione Nella Metà campo Lassiale E fa un po' Fatica A mettere a terra Donato Una terza Centro Dal baricentro Basso Che abbiamo visto Far molti metri In avanzamento In questa partita E adesso E Tontini Che doveva recuperare L'ovale Non ci riesce neanche lui Ma il primo Avanti E Della Lazio Il primo avanti E della Lazio E quindi si riprende Con Una mischia In favore Di Pesaro L'arbitro Ha Sbagliato Un po' Nella Gesticolare Ma ha visto Ha visto Che il primo Avanti Era della Lazio E poi L'avanto Di Pesaro Quindi mischia Per Pesaro Bocca rossa L'introduzione Dell'ovale Serve Una tallonata Veloce Bravo Tontini A tirar fuori L'ovale Ma soprattutto Brava la Lazio A Spingere E a costringere Pesaro Al fallo Davvero in difficoltà La mischia di Pesaro Adesso Sì Decisamente Hanno cambiato Marcia Sono furbi A non spingere Diretto Quelli della Lazio Si spostano lateralmente Col passettino E Beccano i nostri Sempre in fallo Sono veramente Veramente Organizzati bene I giocatori Della Lazio Fra l'altro Noi una prima linea Probabilmente Neanche troppo rodata In questo momento Visto che Leva ha giocato Davvero tanto Da inizio campionato Mentre Bartolomei E Acerra Hanno giocato Molto meno Adesso vediamo Dei cambi Quindi Entra Entrano Nardini E De Angelis Entrano Porcellini E Escono Porcellini E la Resciarte Quindi De Angelis Che sicuramente Va a posizionarsi All'ala Così come Nardini Mentre Erbolini Torna a fare Coppia Al centro Assieme A Paletta Adesso È una Lazio Che spinge E non poco Per cercare La Quarta meta Di giornata Dentro Con l'estremo Donato Pesaro Che deve Organizzarsi Al meglio In difesa Vediamo Che Per linee Centrali La Lazio Fatica E poi Può provare A Mettere in difficoltà Pesaro Un po' di più Sulle Sulle ali La Lazio Prova Ad aumentare Il numero Di ziri Del motore Però Pesaro Se non altro Riesce a respirare Grazie Grazie Al calcio Di punizione Conquistato Adesso Ennesima Tush Di Pesaro Tush Che è sicuramente Il tasto più dolente Di questo secondo tempo Per i giallorossi Vedremo Come andrà Questa volta Il lancio Pesaro Pesaro Tecnici pesaresi Che hanno scelto Di dare spazio A tutta la panchina Pesarese Forse c'è anche La volontà Di Misurare La forza Di tutti i giocatori A disposizione Dei tecnici Giallorossi Adesso purtroppo Pesaro Non riesce a tenere Neanche questo vale Quindi palla ancora Della Lazio Forse c'era un tuffo Sulla rack Della Lazio Però l'arbitro Non è stato Dello stesso avviso E quindi è un Lazio Che prova A distendersi Sull'out Di sinistra Con Santarelli C'è un in avanti Della Lazio Allora E' Pesaro A riconquistare L'ovale C'è l'in avanti Quindi si riprende Alla fine Con una mischia In favore Dei giallorossi Lazio che Nonostante tutto Nonostante anche Tutta la fatica Che fa Pesaro Non ha vita semplice Nell'andare in meta No Specialmente In palla aperta In campo aperto Le due mete Che le ha fatte Le prime due mete Le ha fatte in Rollemule Solo la terza meta E' venuta fuori Da una giocata Ma sempre Nata da una Rollemule In cui ci ha impegnato Tutti i giocatori Sulla linea tre quarti Stiamo tenendo Molto bene Purtroppo La tuscia E la mischia Siamo in netta difficoltà E di conseguenza La partita Prende un abbiglio diverso Bocca rossa L'introduzione Vediamo Se questa volta Pesaro Riesce a togliere La prova Tontini Infatti fa bene Allunga le braccia E prende L'ovale Adesso Gioberto Con un calcio Alto Non troppo lungo Alla fine Però c'è Un fallo In favore Di Pesaro E questa volta Gioberto Sicuramente Proverà ad andare In tuscia Per guadagnare Ancora terreno Buon per Pesaro Che può Rifiatare Purtroppo Invece La palla Non esce E quindi È tutto da rifare Appena andare Di Donato Vediamo Chi riuscirà A guadagnare L'ovale Ed è la Lazio E adesso è Pesaro Che deve Spingere lì Bravissimo Donato Per la Lazio Ad andare a contatto A mettere in difficoltà La difesa pesarese E adesso Calcio Sull'ala De Angelis Cera Ed è Touche In favore Di Pesaro La palla Era nelle mani Di De Angelis L'ala Laziale Gliela tolta Dalle mani E l'ha schiaffeggiata Fuori Buono per Pesaro Che quindi Avrà dalla sua Una tush E adesso Cambio anche in mediana Fra i giallorossi Entra Cardellini Ed esce Boccarossa Cambio anche fra le fila Della Lazio Entra Baffigi Si va a posizionare Fra i centri Bartolomei Al lancio Lancio Sull'ultimo blocco Purtroppo Pesaro Non riesce a conquistarla La conquista Donato Palla A disposizione Dei suoi Lazio Che prova A distendersi Sull'out Di sinistra Ricordiamo Una Lazio Che spinge Per trovare La quarta metà Di giornata Che consentirebbe Alla loro squadra Di guadagnare Anche il punto Di bonus Vediamo se Pesaro Riuscirà ad essere Se non altro La prima squadra Di questo campionato A Non permettergli Di conquistarlo Ancora La battaglia è molto lunga Palla per Jobert Che non può far altro Che trovare Un calcio Di allontanamento In tusce Lazio che rimane Nella metà campo Pesarese Lazio che sta facendo Inevitabilmente La partita In questo Secondo tempo Con Pesaro Che è calata Soprattutto In mischia Non abbiamo più La gestione della palla Avendo perso La mischia È la tusce Non riuscendo A contrastarli In questo momento Stiamo solo difendendo Fortunatamente I ragazzi Ci sono dimostrati Molto maturi E rimanere concentrati Perché se no La Lazio avrebbe preso Di gran lunga Il largo E adesso Altra tusce Storta Per fortuna Di Pesaro Da parte Della Lazio E quindi Si riprende Con la palla Per i giallorossi Che dovranno Decidere Se ripartire Con una mischia O una tusce Si fidano Si fidano Talmente poco Della propria Tusce I pesaresi Che decidono Di ripartire Con una mischia Abbastanza sintomatico Di come Si sente in campo In questo momento La mischia Pesarese Speriamo che Almeno Riescano A tenere In spinta Con Tontini Che con le lunghe braccia Magari proverà A tirarla fuori Di corsa Per fortuna La Lazio Commette Un fallo E quindi Pesaro Potrà Battere Questo Calcio di punizione Vediamo È di seconda Sicuramente Giubberto Decide di calzare Altissimo Con Pesaro Chiamata A salire La Lazio Risponde Pamper Focace Quindi Altro Calcio Altissimo Palla In questo caso Riconquistata Da Pesaro E Pesaro Che adesso Prova A spingere Al centro E In questo caso C'è Il fallo Da parte Del capitano Della Pesaro Rugby Quindi c'è un calcio Di punizione In favore Della Lazio Carlo Carlo È provato ad andare abbastanza convinto Ma Ma L'arbitro È stato Pronto Ha visto E quindi Alla fine Alla fine L'arbitro Ha fischiato Il calcio Per Il Per Per la Lazio E adesso Situazione Che era diventata Decisamente Complessa Per i pesaresi De Angelis Aveva recuperato Il calcio Rimasto in campo Da parte Della Lazio Un po' Spaisato Aveva Servito Cardellini Che ha Calzato Ma si è fatto Stoppare Dal diretto Avversario Della Lazio Fortunatamente La palla è finita In mano a Stura Che ha trovato Un ottimo calcio Oltre La metà campo E quindi Si riprenderà Con una tush In favore Della Lazio Però almeno Nella loro Metà campo Adesso Altro cambio Per la Lazio Entra Bailoni Mentre esce Il capitano Della Pesaro Rugby Ed entra Ascua Lazio Al lancio Lancio Che forse Era ancora Storto Ma L'arbitro Lascia giocare Calcio Altissimo Da parte Del numero Dieci Della Lazio Ma presa Più che sicura Di Nardini E adesso E Pesaro Ad andare A contatto Cardellini Che prova A dare ritmo Ai suoi Paletta Che prova A trovare Il buco Non riesce Vediamo Venturini Che va oltre La linea Del vantaggio Pesaro Che prova A giocare E adesso E Stura Che prova A pestare Sulle gambe Per andare Oltre la linea Del vantaggio Pesaro Che per il momento Sembra mantenere Ancora l'ovale Devono tirare fuori La palla Più velocemente Cardellini Per Caroli Che decide Di non andare Ad impattare E adesso Palla Per Giobert Che prova A servire I suoi Ma è decisamente Pessima L'apertura E alla fine È la Lazio A trovare La quarta Meta Di giornata Purtroppo Una meta Regalata In questo caso Giobert Prova ad aprire Per I suoi Allargo Il passaggio Fra l'altro Era anche In avanti E alla fine Ci incischiano I compagni Di squadra Purtroppo La palla Era complessissima Da ricevere Recupera La Lazio E si invola In meta Un regalo Che alla Lazio Non serviva No A questo livello Qui È chiaro È chiarissimo Una piccola Sbavatura E loro segnano Fino adesso Siamo stati Praticamente Perfetti Li abbiamo fatto Faticare Su tutto Anche nelle mete Che hanno fatto Questo è stato Un regalo Che non dovevamo fare Però La grande squadra Si vede anche in questo La Lazio È una grande squadra 24 a 8 Per La Lazio Pesaro Che Inesorabilmente Forse È calata In Questo secondo tempo E adesso Donato Per Il 26 a 8 Vediamo Se riuscirà A Centrare i pali Non riesce A centrare i pali E quindi Punteggio fermo Sul 24 a 8 Per la Lazio Adesso Pesaro Si affacerà Nella metà campo Bianco Celeste E dovrà provare A rilassare la testa Per Questo Finale Di partita In una gara Che era stata Decisamente Bella in avvio Meno in questo Secondo tempo Soprattutto per I pesaresi Visto che La Lazio Ha dominato Il Secondo tempo Adesso in campo Per la Lazio Anche Gisonni Una Lazio Che si è presentata Con sole Cinque prime linee Quindi con Soli sette giocatori In panchina Come prevede il regolamento Mentre Con otto giocatori In panchina È obbligatorio Presentarsi Con almeno Sei prime linee Fra i 23 giocatori Adesso è sempre Donato Ad andare All'impatto Adesso vediamo Se Pesaro riesce A guadagnare Questo vale Bravo De Angelis A lottare Per la conquista Pesaro che comunque Riesce A guadagnare Il pallone Pesaro che prova A mettere Ritmo Adesso calcio Di Giobert Sull'ala Su Nardini Che però Non riesce A fermare L'estremo Donato Della Lazio Adesso Pesaro Che fatica Un po' A contenere Gli attacchi Dei Laziali E per fortuna Dei Zallorossi C'è Uno in avanti Della Lazio Quindi sarà Mischia Per Pesaro Pesaro Che fatica Ad andare Anche oltre All'ina del vantaggio In questo secondo tempo Pesaro Che fatica Molto A conquistare La linea del vantaggio Al contrario Del primo tempo In cui ha fatto Azioni lucide Una meta bellissima È stato intelligente Giobert A tentare Di conquistare Con il piede Purtroppo La palla non è uscita Bisogna avere Più soluzioni E c'è Giobert Nella gamba Cardellini Cardellini All'introduzione Dell'ovale Intanto inizia A farci buio Altotti Patrignani In questo Inverno Decisamente Rigido Diciamo che Giocare con un clima Di questo tipo È davvero complesso Per entrambe le squadre Ma più che il freddo È il campo pesante Che ti fa stancare Aumentano il numero Degli errori Di conseguenza La difesa Sempre la prevalenza Sull'attacco Si vedono amenazioni Ma oggi Paradossalmente Ci sono state azioni Belle da una parte E dall'altra Complimenti Entrambe le squadre Oggi almeno Non ha piovuto A differenza di domenica Scorsa Quando la partita Si è davvero giocata Sotto la tempesta Sotto la bufera Con i giocatori In campo Che chiedevano Quasi tutti Un cambio E ovviamente Però in panchina Ci sono solo otto giocatori Quindi qualcuno È costretto a farseli Tutti Gli 80 minuti È stata davvero dura Scusate Sì Domenica scorsa E adesso Vediamo se Pesaro Riesce a tenere Questo vale Sì Tontini Riesce a mantenerlo Ma devono Far uscire la palla Velocemente Se no Davvero È una sofferenza In mano Per gli avanti Pesaresi Adesso Giobert Per Erbolini Va a contatto Ma è difficile La vita Per i centri Pesaresi Oggi Contro i centri Della Lazio Che Abbassano La sera Saracinesca Con estrema puntualità Adesso apertura Non precisa Di Cardellini In avanti Di Caroli E quindi Sarà mischia Ancora per la Lazio Ancora circa cinque minuti Al termine Del match Adesso Cambio anche in mediana Per la Lazio Lazio che Può vantare anche Un ottimo settore Giovanile Sono tanti I ragazzi Che salgono In prima squadra Dal proprio vivaio E che Di san la verità Se forse Potevano faticare A trovare spazio In eccellenza Sicuramente L'hanno trovato Quest'anno In serie A Una Lazio Che ricordiamo In questo girone Se la gioca Prevalentemente Con la Capitolina E con Il Prato Sesto Adesso Mischia Per la Lazio E Pesaro Che Addirittura Riesce A Vincere La mischia E a spingere Indietro I Laziali Guadagnando Un calcio Di punizione Davvero Una buona notizia Per i primi Otto uomini Di Pesaro Questa mischia Diciamo che può dare Molto molto morale Per la parte finale Per gli ultimi Cinque minuti Cinque minuti Sono tanti Per cercare Di portare a casa Almeno un punto Di bonus Da parte nostra Possiamo dire Che è anche Uno spettacolo Vedere in campo Una squadra Di giallorossi Formate Da gran parte Del nostro Vivaio Vuol dire Che tutto il rugby Pesarese Sta lavorando bene E che i frutti Si vedono Adesso Tuscia per Pesaro E la Tuscia Sicuramente Più vicina All'area di meta Giocata in questo Secondo tempo Da parte Di giallorossi Bartolomei Al lancio Vediamo Quale sarà La scelta Dei pesaresi Scelgono Di lanciarla Sul secondo blocco Questa volta La Tuscia Va a buon fine Ottimo il lancio Ottimo la presa Infatti Pesaro Riesce a Organizzare La sua Rolling Mall Pesaro Prova A spingere La Lazio Vediamo Che fatica A contaniere La Rolling Mall Pesarese Ma alla fine La palla Della Lazio Purtroppo Pesaro Si mangia le mani Per quest'azione Ha tenuto Dentro la palla Alla fine Però non sono riusciti A mantenere L'ovale Come dovevano E si riprenderà Con una Una mischia In favore Della Lazio Introduzione Elastiale Ma l'arbitro Ferma Le due mischie Vuole vederci meglio E la farà Ripetere Arbitro Che dialoga Con le prime linee Forse c'è qualcosa Da chiarire In questa fine Di partita Per Trovare L'ingaggio migliore Affinché Nessuno Si faccia male E si porti La partita In porto In tutta Tranquillità Pesaro Che tiene In mischia Palla che esce Per La Lazio Adesso Calcetto Addirittura All'ala Adesso Deve essere Pesaro A fermare Subito Lì L'avanzamento Dei Laziali Pesaro Che riesce A difendere C'è Un Un calcio Di punizione Per Pesaro Pesaro Decide di battere Veloce Forse poteva Calciare All'ala Per Erbolini Invece Decidono Di giocare Lì vicino C'è un altro Calcio di punizione Per Pesaro Vediamo Che cosa deciderà Di fare Pesaro Decidono Di andare In Tush Pesaro Che chiuderà Probabilmente La partita In attacco Manca davvero Poco Alla fine Di questo Match Adesso Serve Un buon Lancio Una buona Presa E poi Giocarsela Per andare A cercare La seconda Metà Di giornata Buono Lancio Sul primo Blocco Venturini A prendere L'ovale Pesaro Che prova A impostare La molla Vediamo Se avanzano Se apriranno Pesaro Che Continua A lottare E alla fine C'è La seconda Metà Di giornata Di Pesaro Un'azione Che premia I giallorossi Pesaro Che quindi Si porta Sul Ah no Scusate Effettivamente In chiusura In chiusura Di partita Purtroppo Non c'è stata La meta Pesarese L'hanno Hanno segnato Un calcio Di punizione Alla Lazio Quindi Scusate La partita Termina 24 a 8 Per la Lazio Contro Una Mai Dopo Dopo Un'ottimo Primo L'hanno 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 dimostrato Abbiamo fatto Una bellissima Meta Dopo 6 Fasi Li abbiamo Sempre tenuti Sotto Purtroppo Degli errori Che fanno la differenza Soprattutto Piccoli dettagli Gli hanno portati A fare Queste Quattro Miete Volevamo cercare Di impedirglielo Però Non ci siamo riusciti Ma un grande Grazie Una grande prova A tutti i ragazzi Tutti quelli che sono entrati In 23 Si è visto cosa significa Anche giocare contro La capolista Una squadra Che ha Che non ha perdonato Qualsiasi minimo errore Da parte di Pesaresi Si è stato così Ogni volta che abbiamo sbagliato Ci hanno punito Hanno un drive Fortissimo E hanno fatto Tre mete Fotocopie Sui nostri errori Calciando Sulla linea Quasi sui 5 metri Tush Drive Meta E anche i cambi Hanno fatto la differenza Quando Da loro entrano Gente molto Diciamo Più Preparata E strutturata Fisicamente L'abbiamo sentito Però Come ho già detto Complimenti a tutti quelli Che sono entrati Quello che oggi Pesaro forse ha imparato E che può giocare A testa alta Contro chiunque Soprattutto E non solo Anche in attacco Perché si è visto Ci sono viste davvero Delle gran belle giocate Nel primo tempo Eh sì Abbiamo detto Nel cerchio finale Che questo deve essere Un punto di partenza Perché abbiamo visto Che non ci manca Poi così tanto Per essere Per essere a questo livello Adesso ci aspetta Un mese È difficile Andremo due volte a Roma E una a Livorno E sarà un bel banco di prove Per vedere Se è stata solo Una cosa di passaggio Qui in caso Veramente questa squadra Si può esprimere Su livelli più alti Grazie 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 a tutti